Woodland Summer Festival, tutto pronto per un festival in montagna, un evento trasversale che coinvolge grandi e piccini, di cosa si tratta? Allora noi cerchiamo di realizzare con questo festival un evento adatto a tutte le età, quindi famiglie, bambini, cerchiamo di rendere tutti felici nel nostro bosco a Colle dell'Orso che è stato per anni molto famoso e popolato, adesso cerchiamo di riportare qualcuno a visitarlo. L'evento partirà la mattina con dell'animazione per bambini, gonfiabili, per poi proseguire con il pranzo preparato allo chef Patrizio e poi come giustamente ho detto un festival, quindi musica, si balla, c'è uno show di un animatore si chiama Andrea Cascelli e da lì partiranno degli aperitivi, quindi degustazioni e prodotti tipici e poi ci sarà uno special guest, la nostra Overgivers, che ci intratterrà tutta la notte con la sua musica. Un evento realizzato dalla nostra associazione che si chiama Movement, che ha proprio lo scopo di far conoscere il nostro territorio, quindi riportare un po' di persone sulla nostra montagna, che è il nostro fiore all'occhiello di Frosolone. E quindi nulla, venite numerosi, noi vi aspettiamo, siamo pronti, domenica 11 agosto, dalle 11 di mattina, Woodland Summer Festival. Grazie a tutti.